Allora Mattia, raccontaci un po' come avete vissuto, come hai vissuto anche personalmente questi minuti interminabili ma che poi sono sfociati con questo traguardo dei play-off, festeggiati molto perché sembrava irraggiungibile questa meta. Vabbè, è normale che al triplice fischio, sapendo già il risultato del Poggi Bonzi, e aver fatto quel gol al 96esimo è stata una gioia indescrivibile. Infatti lo stadio è scoppiato e anche noi siamo scoppiati di conseguenza perché entrare nei play-off con una vittoria del genere contro una Salernitana guerrita in quel modo dà tanto piacere. Ecco perché qualcuno poi da Poggi Bonzi non vedendo le immagini ha parlato di, non dico una partita combinata, ma comunque di una situazione particolare. In realtà la Salernitana è arrivata, come hai detto tu, agguerrita e lo si è visto dai pali e dalle occasioni create da loro. Sì, infatti il giorno dopo, il giorno stesso, ho visto le dichiarazioni che ha rilasciato il direttore sportivo del Poggi Bonzi, ho visto che si era lamentato per un tentato biscotto dalla Salernitana, però da persona seria se è andato a rivedere le immagini si vedeva proprio che a metà secondo tempo non era proprio il caso di continuare la partita, c'era 10 centimetri d'acqua. Come si faceva a giocare in quel campo lì? Con l'Apriglia zero punti in due partite, quindi conta qualcosa? Sicuramente la gara di andata lo sappiamo che è andata male anche per demeriti nostri, però la gara di ritorno l'abbiamo vista e loro, se non sbaglio, avranno fatto sì o no un tiro in porta. Il gol gliel'abbiamo fatto noi, su autogol sfortunato di Coletti e non ricordo tante occasioni da gol da parte loro, abbiamo giocato solo noi quella partita. Sono stati fortunati, noi sfortunati, però sappiamo che l'Apriglia è una squadra molto forte perché avendo tutti quei punti vuol dire che il campionato se l'è giocata la meglio con tutte le altre e adesso andiamo domenica prossima a giocare questa partita al 100%.